Musica Ciao ragazzi, oggi andiamo a farci un giro, andiamo a fare un po' di street magic alle people Via, andiamo via Pronto per terrorizzare le strade di Lignano con un po' di magia? Sì Sì, che simpatico Dai, fai un trucco a questi qua che si stanno tranquillamente mettendo a posto la macchina Dai, aspetta, il tuo pinguino Boh, dai, tipo... Sì, vediamo una persona da poter approcciare, dai Adesso vado Era rossa? Non sono tutte rosse No, non era rossa Quindi non era altro di qua? No Hai visto qualcosa? No Non c'era Era questa? No Sofchia? Sì Prendi qua che vuoi Fala vedere anche qua Ok Perfetto Mette le macchine Guarda Riccardo Prendi qua Prendi qua La macchina rossa Sì Sì Guarda Sì Guarda lì Grazie Ciao 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 Il coglione in videocamera come ti viene molto bene Castoro style Fagliela vedere a lui E facci una bella firma sulla faccia Mettila pure qua Era Era nera Era rossa, vero? Qui non è l'otto di fiori Qua schiocca le dita Prova Era il jack di cuori Proviamo a rifare, guarda, la vado a mettere in mezzo Ti faccio vedere che ovviamente non era prima Perché non hai ancora schioccato le dita Prova a schioccarle Va bene La tua carta è il jack di cuori Prova a rifare, adesso è più visuale Prova a spingerla dentro fino in fondo Spingila Schiocca le dita Gira la prima carta No, mi dispiace, è sbagliato Mi dispiace Sta cosa non va bene Ragazzi, spero che il video vi sia piaciuto Sarà il primo di una lunga serie E niente Un abbraccio e un bacio a tutti Noi ci vediamo in un prossimo video Ciao Ciao Quindi ragazzi, come al solito vi lascio i vari link Lassù il tasto per iscrivervi al mio primo canale E sotto il tasto per iscrivervi al secondo canale Di qua il link per la pagina Facebook La pagina Google+, il profilo Instagram se volete qua sotto ci sono i due ultimi video che ho fatto beh mi raccomando lasciate un pollice in su vi voglio bene un bacione a tutti e addios